Urbano Quinto Guglielmo di Grimard, nato nel castello di Grisacchi in Francia, sin da giovane decise di diventare monaco benedettino. Dal 1342 insegnò diritto canonico a Montpellier, Tolosa e Avignone. Fu abate di San Germain d'Auxerre e San Vittore di Marsiglia. Fu prescelto come legato papale della Milano dei Visconti e nel 1362 presso la regina Giovanna I di Napoli. Eletto papa senza essere cardinale, vescovo e neppure presente in conclave, assunse il nome di Urbano Quinto. Fu uno dei sette papi di Avignone, si impegnò per porre fine allo scisma con la chiesa greca e rilanciare la crociata contro i turchi. La sua fama è legata al fatto di aver riportato la Santa Sede a Roma dopo mezzo secolo di permanenza ad Avignone.